Ciao ragazzi, io sono Mauro e oggi volevo fare un contenuto diverso, qualcosa che non fosse solo di cantato o di suonato ma volevo raccontarvi un po' di me, un po' di quello che sono le mie giornate, un po' di quello che è l'aspetto del mio lavoro e del mio studio che mi porterà, se Dio vuole, alla laurea del prossimo anno in conservatorio. Ma intanto partiamo con la prima novità, ovvero quello che c'è in questo schermo. La nuova collaborazione che sto portando avanti con Aulisa Dauer, che è una bravissima violinista tedesca che vive e lavora in Germania e insegna soprattutto musicali, soprattutto la fa tramite un canale YouTube il suo personale che è Aulisa Dauer, poi lo potete trovare nei link in descrizione. Cosa centro io di mezzo a tutto questo? Centro perché io faccio l'editing per il video ma anche per l'audio, quindi tutto quello che passa e arriva a lei facendolo pubblicare però deve passare prima da me e quindi è iniziata questa bellissima collaborazione che spero porti poi a risultati molto più performanti, molto più belli. Intanto è un buon inizio.